E' bella ragazzi qui ci sono ieri per ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi ritornati su GTA 5 online in compagnia del nostro omino e della poltroncina degli acquisti Per il nostro appuntamento del venerdì, il nostro appuntamento fisso del venerdì Perché oggi siamo qui ovviamente per andare ad acquistare una nuova auto e andremo a recuperare un'altra auto Visto che pare che Rockstar sia morta con i DLC e non escono più, noi ci recuperiamo le vecchie auto E oggi entremo a recuperare quest'auto qui che indovinate un po' è una di quelle auto che volevo acquistare ma non ho mai acquistato Ovvero la 770 ragazzi, 770 che è un Aston Martin, non so di preciso quale modello però so che è un Aston Martin quindi si Il prezzo è di 695.000 dollari quindi beh, andiamo a leggere la descrizione di questo veicolo Radio Bash ha realizzato solo una manciata di queste bellezze e non solo a causa dei ripetuti casi di appropriazione Intebita nella gestione azientale No, è per via del rispetto verso l'individualismo estremo e verso la rigorosa esclusività che deriva dalla convinzione che l'unica percentuale che conta È quella dell'1% E se tutto questo sembra una scusa per voler dimostrare qualcosa, lo è Perfetto, già dalla descrizione non promette molto bene, andiamo ad ordinarla di questo colore molto bello Ci sta, ebbene ce la facciamo mandare esattamente a questo garage, finalmente l'ho liberato, ho liberato un posto quindi va bene E aspettiamo che arrivi la nostra Aston Martin Quindi ragazzi io come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, mi raccomando superiamo assolutissimamente i 300 like Se volete altri video di questo tipo dove andiamo ad acquistare e modificare i veicoli di GTA online Ma soprattutto io vi invito a condividere il video come te mazzi su tutti i vostri social e ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video Dai iscrivetevi che guardate i video e non vi iscrivete mai, ma che ve costa iscrivervi Ecco, e mentre voi effettuate l'iscrizione al canale io vi lascio con la pubblicità Hai bisogno di un'aggiunta di denaro al tuo account di GTA online? Bene, contattami su Instagram, link qua sotto nella descrizione Ebbene ragazzi ed eccoci qui con la diubace 770 appena arrivata Beh che devo dire raga, che vi devo dire A me quest'auto piace, piace davvero tanto E' davvero molto bella, non so perché ma sembra imponente no? Boh è particolare, saliamo a bordo e ascoltiamo il sound Ci sta di brutto, andiamo a modificarla immediatamente Bene allora, freni al massimo come al solito Motori al massimo anche quelli Marmitte abbiamo in titanio oppure ovale Quasi quasi, sai che... No, no, meglio questa qui in titanio Claxon va bene Fari, luci all'oxeno Kit neon, schema neon al massimo Poi scegliamo il colore come al solito Targhe personalizzata come al solito Verniciatura, già siamo alla verniciatura E attenzione, a me sembrava avesse due colori Invece ne ha solamente uno Quindi boh, magari il tetto sia in carbonio, vedi Bene allora sarà molto ma molto difficile da verniciare Oddio in realtà no Perché il colore singolo alla fine è solamente quel colore Via il fatto che devi abbinarlo anche ai cornicioni E tutte queste robe qua Quindi, eh Comunque sia direi di mantenere un colore abbastanza elegante per quest'auto Tipo un blu così Secondo me ci sta di brutto raga Cioè, sì, sì Andata per il blu ci sta davvero bene Forse con il perlascente si può fare qualcosa, eh Quasi quasi direi di abbinarlo con il blu profondo Guardate che bel colore che dà Dà davvero un bel colore Poi tra l'altro il posteriore non so perché ricorda una Jaguar Boh, vabbè, allora Blu profondo Andata così Minigonne Abbiamo personalizzate un minigonne in carbonio Mettiamole in carbonio, ok Spoiler Basso Alto Alettone in carbonio O alettone alla tipo 2 in carbonio Beh, comunque sia se dobbiamo tenere l'auto elegante Mettiamo lo spoiler alto Che non è altissimo ma ci sta Sospensioni Vabbè, sulle sospensioni ovviamente ci abbassiamo al massimo Trasmissioni le mettiamo al massimo pure Turbo al massimo Ruote Credo che ormai conoscete tutti dove vado a parare Da quanto ho scoperto sti cerchi vado a pigliare sempre quelli Potrà essere sì ripetitivo Ma a me piace troppo il fatto di mettere il dettaglino Che ci dovete fare Che poi alla fine comunque sono dei cerchi belli Quindi sì, cioè perché no Le carbon solar, guarda come stanno bene su quest'auto Il colore cerchioni ovviamente potrei metterlo blu Però credo che sia un po' troppo scuro E che si confonda con il carbonio Ma in realtà neanche tanto Se metti il blu reale, guarda Cioè, ma anche perché devo mettere per forza il blu Mettiamo il blu reale in quanto un'auto monocromatica The same pneumatici, le scrittine, no Gommanti proiettile sì E il fumo a questo punto Beh, blu ovviamente Che si trova esattamente qui Perfetto Finestrini molto oscurati E siamo a posto Bene, ci rimanca solamente il colore del neon Anche se quasi quasi la targa Eh, la metterei blu Così almeno, guardala qui Dai, ci sta Blu Ci rimane solamente il colore del neon Che direi di metterlo Boh, colore crew? Bah, mettiamo blu e basta dai Fina Bene, abbiamo finito con le modifiche di quest'auto E devo dire che è venuta fuori una bella bomba, eh No, ma cos'è sto brutto tempo, dai Piuttosto che mostrarvela con tutto sto temporale Aspetto che esca fuori il sole, ragazzi 2000 anni later Ebbene ragazzi Ed eccoci qui finalmente con un po' di sole In compagnia della nostra 770 Bella che modificata E, raga, allora Risultato finale Proprio ciò che volevo È davvero un'auto bellissima I colori li ho azzeccati Almeno secondo i miei gusti Vi dirò di più Sempre quasi il blu Eh, di Tesla Che a me sinceramente non dispiace Eh, bello Cioè, ci sta Bella, bella, bella auto Davvero Saliamo a bordo e ascoltiamo il sound Una volta modificata Davvero niente male, ragazzi Partiamo così di slancio Eh, allora Posso già notare Che una trazione posteriore Non curva Questa cosa non è che Già mi abbia fatto impazzire, eh Non il fatto che sia trazione posteriore Ma il fatto che Non curva Allora Portiamola subito Nell'autostradina Della velocità Dovrebbe classificarsi Esatto Come una sportiva Bene Vediamo un attimino La velocità massima Che riesce a raggiungere A me piace troppo Guarda, guarda che bella Mi piace Allora Sembra aver raggiunto La velocità massima Vi dirò Non campi a più marcia La sento bella spinta Quindi Beh, direi che ci sta tutto Sicuramente una tra le auto Più veloci delle sportive Quindi sì Andiamo a vedere il test del freno In 3, 2, 1 E go Ok Eh, va bene Per un attimo ho avuto la paura Di schiantarmi sul SUV Ma Beh, devo dire che Ci sta Niente male Un po' lungo Forse Però ci sta Dai Considerando la velocità Niente male Beh, l'auto è trazione posteriore Ve lo posso confermare Guarda come si muove Andiamo a vedere Come si comporta Con la tenuta Questo veicolo Perché c'è un camioncino Della Sprank Parcheggiato in mezzo alla strada E perché quello Lo schivan tanto contro mano Ma va bene Ormai GTA È sempre più particolare Allora Vediamo un attimino Come se la cava Con la tenuta Il controllo È ottimo Cioè a mio avviso È davvero ottimo La tenuta Beh, tiene anche abbastanza Anche esagerando Guarda qui No, no Tiene davvero Tanto, tanto, tanto Anche la sterzata Sempre essere davvero ottima E non riesco a capire davvero Per quale motivo Ecco, vedi Guarda Con cassa aperto Così Curva Che una meraviglia Regà Scusatemi Io non ho veramente capito Allora a sto punto Perché là Non ha fatto la curva Cioè spiegatemi Il motivo Per la quale Davanti l'ufficio Non ha curvato C'era la strada bagnata Probabile Non lo so Però provo a fare Qualche altra curva In velocità E beh Regà Dai Devo dire che È fantastica Guarda che roba No, no Ci sta Davvero Ottima Ma è da tanto Che non guido un'auto Con una sterzata Così buona Su GTA Test del drift Mi sorprenderà Spero di sì Ok Giusto Il tempo Di prenderci la mano Ed ecco qui Che già esce Il bel drift Oh regà Anche il drift Qui Sembra ottimo Beh Dai Sì 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 Quest'auto Mi ha sorpreso Davvero In positivo Cioè Non mi aspettavo Tutta questa velocità Non mi aspettavo Tutto questo controllo Non mi aspettavo Nulla praticamente È davvero Un'auto Ottima Per il prezzo Alla quale Ve la portate a casa O sarei di dire Quasi regalata Fantastica ragazzi Quindi ragazzi Che dirvi Fatemi sperimenti Tutto lasciando Un bel like Oggi abbiamo Acquistato E modificato La Dubaccio 770 Un'auto Che mi ha sorpreso Davvero tanto Quindi ragazzi Mi raccomando Superiamo assolutissimamente I 300 like Se volete Altri video Di questo tipo E ovviamente Come al solito Vi invito A condividere Il video Come da mazzi Su tutti I miei social E iscrivetevi al canale Per non perdervi I prossimi video Quindi Se volete passare Dal mio video È tutto Bella regà Ciao Ciao Grazie a tutti.